Boom di contagi ieri in Abruzzo, 485 positivi ed è corsa contro il tempo per cercare di arginare il Covid grazie alle vaccinazioni, lo afferma il direttore dell'Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive, Giustino Parruti, nonché responsabile del Covid Hospital di Pescara, che spiega il perché dei numeri di ieri. Ma è la conseguenza di due fattori, da una parte la circolazione di una variante come la Delta che è estremamente contagiosa, questo lo sapevamo, e che ha una grossa possibilità di raggiungere con poche copie e di infettare tutti gli ospiti che siano suscettibili in qualche modo. Dall'altra il fatto che nella ultima, diciamo, quindicina l'epidemia si è fortemente connotata con un coinvolgimento dei più giovani, dei bambini. Quindi è chiaro che ciascuno di loro, tornando a casa, di fatto ha grande potenzialità di generare dei microcluster, delle piccole aggregazioni di infetti intorno a sé. Quindi questi due fattori danno un carattere abbastanza esponenziale in un contesto di prevalente vita al chiuso in questa fase. La nota ottimistica di questo momento è che da una parte è stata provata l'assoluta sicurezza della vaccinazione dei bambini. Anzi, se posso spezzare un ulteriore lancio a questo riguardo, come ci aspettavamo, la vaccinazione dei bambini è più sicura e più efficace di quella di tutte le altre fasce di età, insomma, come era ovvio. Ma, insomma, l'abbiamo provato. Quindi adesso possiamo realmente sperare che, se siamo molto rapidi, dopo la riapertura delle scuole, possiamo avere, insomma, comunque entro un paio di mesi da oggi, possiamo avere una copertura che blocchi questo tallone di Achille della nostra situazione. Dall'altra parte, a tutta velocità, con le terze dosi che, come sappiamo, aumentano la refrattarietà del vaccinato. Cioè, i vaccinati con terza dose, se si infettano, se sono raggiunti dal virus, hanno un breve carriage con basse dosi, con basse quantità. Quindi, io spero che con queste due grandi armi che abbiamo, insieme agli anticorpi monocronali, da questa settimana abbiamo anche un terzo anticorpo monocronale molto efficace, gli anticorpi monocronali sono importanti, colgo l'occasione per ridirlo a tutti, chi ha dei fattori di rischio per progressione di malattia, ce lo deve segnalare immediatamente. I 600 di malattie infettive sono a disposizione per praticare in Abruzzo, come in tutte le altre regioni, monocronali. Per quanto riguarda il Covid Hospital, la pressione qual è? Soprattutto, le chiedo, c'è qualche Novavax pentito? Allora, no. No, in questo momento nel Covid Hospital abbiamo che a Pescara sei pazienti in rianimazione Covid, che sono tutti non vaccinati, e abbiamo 20, da stanotte 20 degenti in reparto ordinario Covid, dei quali meno della metà sono vaccinati, tutti gli altri sono non vaccinati. Vaccinati fragili, ovviamente. No, grossi segnali di pentimento non ne vediamo, ma insomma non ne cerchiamo nemmeno, non c'è nessuna azione discriminatoria nei confronti di chi non è vaccinato, assistiamo tutti con lo stesso slancio.